bene il titolo che ho dato a questo video non dà adito a nessun tipo di interpretazione perché ho intitolato ceferin il dittatore dello stato libero di uefa land perché se lui avesse i baffetti anziché la barbetta incolta se avesse i baffetti ricorderebbe qualcuno che negli anni 40 50 ha fatto dei grossi danni dei grossi danni al mondo e soprattutto ad alcune etnie questo non fa cose contro l'umanità per modo di dire perché se andiamo a guardare bene il mondiale del qatar con tutte le persone morte per la costruzione degli stadi qualche domandina dovremmo farcela ma questo signore è il classico predicatore da quattro soldi predica bene e razzo la male fa le pulce al barcellona fa le pulce da juventus fa le pulce al city però poi fa finta di fare le pulce al city scopriremo perché fa le pulce a real madrid non vi faccio partecipare alle coppe vi squalifico vi quali la superlega non si può e qui e là e su e giù non si sa perché la corte che si doveva esprimere prima novembre poi ha spostato a marzo poi a marzo ha spostato a giugno forse non si esprimerà neanche a giugno la corte dell'appello europea per dirimere la questione superlega uefa nel frattempo nel frattempo salta fuori la magagna ovvero che nella serie b del belgio una squadretta piccolina dice che ci sono squadre che competono con lei che sono state sorvenzionate con capitali esteri non regolari poi se a me a guardare tutto è riconducibile al mondo fatato dei due emiri no del qatar i famosissimi al chelafi family che sono un pochettino gli attendenti di questo simpatico dittatore calcistico allora io la morale l'ho detto anche i tempi di calciopoli e l'ho detto anche per quello che riguarda le plus valenze della juventus l'accetto da chi non ha commesso nessuna irregolarità se si tratta di irregolarità ai tempi di calciopoli lo abbiamo visto anche recente su me report milan che parlava con gli arbitri che promuoveva trapianti diceva ti apro un locale ci incontriamo di nascosto collina con galliani e poi c'era facchetti che chiedeva all'arbitro bertini di far vincere l'inter perché aveva fatto tre pareggi tre vittorie due sconfitte quindi facci vincere così scusate tre sconfitte tre pareggi due vittorie facci arrivare la terza vittoria così cioè facevano tutto di tutti di più ma hanno colpito solo la juve le plus valenze le hanno fatte tutte non ultime non parlato stamattina nei good morning osi man è apparso a napoli con tre ragazzini che non sono mai andati a lille però qua per adesso parte la procura di lille la procura di lille che si sta occupando della cosa non succede niente in compenso c'è farine fa minacce a destra e sinistra allora io mi domando e dico ultima cosa prima di procedere si è praticamente l'unico candidato per la rielezione del presidente della uefa l'unico candidato quando è che ci sono delle elezioni con un unico candidato in uno stato di dittatura io non sto dicendo nulla che sia irreale o fuori dal mondo lui è di fatto il dittatore della uefa poi uno può utilizzare l'accezione dittatore come crede nel bene o nel male per me è un dittatore perché vuol comandare lui fa il bene il brutto tempo le cose che non fa lui non vanno bene le cose che fa lui vanno tutte bene però se le cose che fa lui sono sporche sono losche ci sono capitali stranieri che non vanno bene c'è una concorrenza sleale nella serie di belga e ma siccome la la cosa è di una squadra di serie di belga non ha l'eco no la ridondanza che potrebbe avere se si parlasse di la liga spagnola tra barcellona reale o in italia juve inter e milan o in inghilterra city manchester e celsi e via discorrendo no la lega b belga e quindi lui fa tutto di nascosto fa tutto di nascosto io dico che secondo me nel calcio moderno ci vorrebbero personaggi onesti personaggi puliti hanno fatto le pulci a blatter e a platini che sicuramente qualche cosa di sbagliato hanno fatto perché non esiste che quando uno in un regno di potere non fa nulla per proprio interesse proprio torna conto ma questo signori è peggio di blatter è veramente peggio di blatter è peggio di di chiunque ci siamo in stato prima questo è uno che si fa gli affari suoi i suoi interessi non si sa come abbia fatto ad arrivare al potere ma probabilmente qualche sospetto ce l'ho e io vi dico sempre di guardare negli emiri che hanno i soldi che gli escono quando aprono un rubinetto o tirano l'acqua del water per cui io la morale da alexander ceferi non me la faccio fare questo signore secondo me lasciatevelo dire è il male è uno dei tanti mali del calcio il calcio è malato lo sappiamo tutti lo vediamo con i diritti televisivi sballati lo vediamo con le plusvalenze che non sono regolamentate lo vediamo col discorso che lo stato dice di spalmare gli stipendi poi però ti vanno a fare un'inchiesta se tu spalmi gli stipendi lo vediamo dal fatto che ci sono non c'è la possibilità di creare un torneo parallelo uscendo dalla uefa facendo una cosa nuova e quindi c'è qualcosa come diceva il buon shakespeare c'è qualcosa di marcio in danimarca ma non solo in danimarca nella uefa nella fattispecie il dittatore dello stato libero si fa per dire di uefa landa ciao a tutti